Io quando ero giovane mi ricordo che ho visto un film che si chiamava Lucien Lacombe ed era di male e cominciava con Minor Swing, poi ci ho messo dei decenni e l'ho ritrovato praticamente non so 30 40 anni dopo ed è una cosa che mi è sempre piaciuta fin da allora cioè una vitalità ha un'energia che sono pazzesche che pone puoi dire dei problemi delle difficoltà è un genere molto fisico quindi ti sollecita stare in forma per certi aspetti di questo può aiutare però insomma è una di quelle cose dove secondo me conta più il fatto che fai un viaggio che poi dove arrivi stare in viaggio è molto bello ma io un grande background musicale non ce l'ho nel senso che ho strimpellato da ragazzo poi ho ripreso un po' negli ultimi anni quando ho regalato mia moglie la fisarmonica il primo percorso strutturato è questo con Enrico io credo che Enrico sia una di quelle persone che suona bene ma sa anche insegnare cioè ha una capacità didattica reale sa accompagnare sa individuare i passi successivi le approssimazioni non è che ti incanta soltanto che è già importante perché questo vuol dire essere affascinati però poi occorre qualcuno che ti accompagni perché sennò ti perdi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti